Gli agenti della Polizia Municipale di Isernia saranno presto dotati di armi. Manca solo l'ultimo sì della maggioranza, che a quanto pare dovrebbe arrivare a breve, e poi si procederà all'iter per l'acquisto della nuova dotazione da assegnare agli uomini della caserma di via 24 Maggio. Una scelta che va in una duplice direzione, come spiegato dall'assessore comunale a ramo Domenico Di Baggio, sussiste la necessità di conformarsi alle leggi vigenti, che prevedono l'assegnazione di armi agli operatori di polizia locale. Ma, soprattutto, la decisione va nella direzione di consentire un ampliamento dei servizi attualmente svolti dagli operatori nelle strade cittadine. L'obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza e maggiore decoro. La dotazione di armi consentirà, ad esempio, di far partire il servizio di controllo e vigilanza anche nelle ore notturne attualmente assente. Questo turno, secondo l'attuale normativa, può essere svolto solo da agenti armati. In precedenza, il Municipio Pentro aveva sopperito a tale questione, affidando a una società esterna, non senza polemiche, l'attività di vigilanza sulla Movida nel centro storico. Gli agenti della Municipale, rispetto ai vigilantes, avranno però una maggiore operatività, dato che questi ultimi, ad esempio, non erano legittimati ad effettuare alcuni tipi di controlli specifici, come la verifica dei documenti. I vigili urbani, invece, in virtù del proprio ruolo, avranno l'autorità per operare a tutto campo. A quanto pare, il Consiglio sarebbe già orientato a dare il via libera, mentre resterebbero da definire alcuni aspetti specifici. Tra questi, si valuterà se consentire il porto d'armi al personale della Polizia Locale, esclusivamente in orario di servizio o anche al di fuori di tali turni. La volontà di assegnare armi alla Municipale, tuttavia, raccoglie anche voci contrastanti, in particolare tra la minoranza. C'è di fatti chi sottolinea come Isernia, essendo una cittadina con tassi di criminalità particolarmente bassi, non abbia bisogno di procedere in questa direzione, dal momento che gli episodi di movida violenta rappresenterebbero un fenomeno praticamente assente.